ok ma quanto costa una campagna su facebook dipende la risposta ovviamente non può essere che questa dipende da moltissimi fattori dipende da qual è il prodotto servizio che vuoi promuovere e sostanzialmente a chi lo vuoi promuovere dove lo vuoi promuovere per quanto tempo lo vuoi promuovere teoricamente noi possiamo partire con una campagna pubblicitaria che costi anche un euro al giorno e su tutto il territorio nazionale ovviamente l'efficacia non sarà grandissima anzi sarà estremamente ridotta ma in funzione di quello che vuoi fare potresti anche in una prima fase partire con una campagna del genere in generale come funziona tu definisci un budget che può essere un budget totale o un budget giornaliero ipotizziamo 10 euro al giorno 20 euro al giorno e fai partire questa campagna che puoi stoppare in qualsiasi momento quindi puoi decidere di dedicare supponiamo 300 euro a questa campagna pubblicitaria e impostare un budget giornaliero di 10 euro al giorno per un mese quindi per un mese supponiamo tu voglia fare una campagna pubblicitaria per un mese nella tua città 10 euro al giorno potrebbero anche essere sufficienti se non è una città troppo grossa e se il bacino di utenti al quale ti vuoi rivolgere non è un bacino troppo grosso non vuol dire che tutti quelli che fanno parte del tuo bacino di utenti saranno raggiunti dalla tua campagna pubblicitaria perché entri in concorrenza con altre aziende anche completamente diverse dalla tua azienda cioè non necessariamente altri artisti ma altri altre aziende che pubblicizzano tutt'altro entri in concorrenza con loro per andare a fare vedere il tuo post al tuo potenziale cliente immaginiamo che tu abbia un elenco di arti di utenti interessati all'arte che ti sei creato gradualmente nel tempo tutte le volte che hai fatto una mostra o in qualche maniera se tu sia riuscito a trovare indirizzi mail con permesso ovviamente dell'utente a trovare questi indirizzi mail di utenti interessati all'arte e che potrebbero essere acquirenti delle tue opere supponiamo che tu abbia questo elenco come già detto in un video precedente tu lo abbia somministrato a facebook un elenco di mille persone non è detto che tu riesca a raggiungere tutte e mille quelle persone dipende dal budget che è utilizzato e dalla concorrenza che c'è su questa campagna queste mille persone oltre a essere interessate all'arte probabilmente hanno altri interessi anche ci sarà quello che è interessato al calcio quello che è interessato al tennis chi alla musica rock chi all'abbigliamento sportivo chi all'escursionismo e così via quindi siccome la bacheca di un utente per quanto possa essere considerata infinita perché teoricamente tu scorri questa bacheca e all'infinito puoi visualizzare sempre post in realtà un utente visualizza quando si collega su facebook sulla propria bacheca visualizza soltanto alcuni post e scorre alcuni post una decina di post più o meno non più di tanto quindi lo spazio a disposizione di tutte le aziende che vogliono andare a trovare l'interesse per quella persona è molto limitato quindi come fa facebook a dire mostro il post dell'artista pinco pallino che sta facendo questa campagna pubblicitaria su milano piuttosto che il post della nike che sta facendo una campagna in tutta italia con un budget più elevato a quella persona che è interessata sia all'arte sia alle scarpe da escursionismo dipende dal budget che hanno utilizzato anche le diverse imprese cioè che hai utilizzato tu e che sta utilizzando il tuo concorrente che in questo caso può essere la nike ma può anche essere la coca cola o può essere il negozio sotto casa quindi più alto è questo budget giornaliero sostanzialmente più probabilità ci sono che tu riesca a coprire una porzione più considerevole del tuo pubblico tu puoi però il dato positivo qual è? che tu puoi controllare questa spesa quotidianamente e quindi partire con un budget giornaliero supponiamo di 10 euro con la consapevolezza che non andrai a coprire tutto il tuo target ma in funzione dell'arresa che ottieni da questa campagna puoi decidere di aumentare o abbassare il budget questo lo puoi fare quotidianamente quindi se con 10 euro al giorno riesci a vendere un quadro ogni 15 giorni e questo quadro lo hai venduto a 500 euro tu sai che 150 euro in 15 giorni li hai dovuti spendere per la campagna pubblicitaria di questi 500 euro te ne sono rimasti 350 potrebbe essere in funzione di quelle che sono le tue aspettative potrebbe anche essere un buon compromesso chiaramente se in 15 giorni hai speso 150 euro hai venduto un quadro forse di 100 euro chiaramente c'è qualcosa che non va e allora dovresti aggiustare un attimino il tiro quindi bisogna monitorare le campagne sapere qual è il budget che devi dedicare a questa campagna e ottimizzarlo di volta in volta o cambiando i pubblici cambiando anche i post quindi le grafiche sostanzialmente testi e grafiche e adattando la tua comunicazione di volta in volta non è una cosa estremamente semplice il rischio come detto in altri video di buttare soldi è dietro l'angolo quindi il consiglio che ti do è sempre quello di rivolgerti a un professionista che si occupi di queste tematiche attenzione non tutti quelli che hanno una web agency e che dichiarano di avere esperienza in queste tematiche hanno realmente esperienza quindi assicurati sempre che tu ti stia rivolgendo alla persona adatta un caro saluto ciao 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 ciao